Seduta dell'11 giugno Consigli comunali dei ragazzi WI-FI libero alla biblioteca regionale Dopo Palazzo Lascaris e le altre sedi del Consiglio regionale, anche nella Biblioteca della Regione Piemonte è possibile collegarsi liberamente al WI-FI. L'accesso alla rete, aperto a tutti, è disponibile senza necessità di registrazione, semplicemente selezionando con il proprio notebook, tablet o smartphone WI-FI la rete per tutti e accettando le condizioni d'uso. L'attivazione del WI-FI rappresenta un passo avanti nella direzione di garantire a tutti i cittadini l'accesso alle informazioni, compito fondamentale delle biblioteche pubbliche. Viaggio studio a Bruxelles 32 studenti piemontesi delle scuole medie e superiori sono andati alla scoperta delle istituzioni europee di Bruxelles. Si tratta del viaggio studio per un gruppo di vincitori della 29esima edizione del concorso, organizzato dalla Consulta Europea del Consiglio regionale, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale. La delegazione piemontese, accompagnata dal consigliere regionale Giovanni Negro, ha visitato il Parlamento, la Commissione europea e alcuni punti di interesse storico-culturale della capitale belga. Progetto Scolastico europeo Comenius Ricevuto a Palazzo Lascaris un gruppo di studenti e insegnanti di otto paesi europei, Turchia, Romania, Spagna, Lituania, Polonia, Grecia, Galles e Italia. I ragazzi partecipano a Torino al progetto europeo Comenius, Yes to a Healthy Style, si ad uno stile di vita salutare, che promuove la collaborazione didattica tra scuole di diversi paesi, utilizzando l'inglese e le tecnologie multimediali. Grazie